Questo video riguarda i migliori 3 robot da cucina. Il vincitore della qualità è il TopCaf Robot da Cucina. Frullatore, spremiagrumi elettrico, tritatutto, grattugia, grattugia fine, grattugia grossolana, disco emulsionante. Soddisfa le funzioni utilizzate per taglia, sminuzza, impasta e mescolare. Robot da cucina è dotato di un potente motore da 1100 W e una varietà di accessori, a tre velocità e la funzione pulse e un elegante display. La grande ciotola da 3,5 litri con un volume di lavoro fino a 2 litri permette di mescolare una vasta gamma di ingredienti, mentre la ciotola trasparente permette di controllare lo stato dell'impasto di pizza e pane senza aprirla. Tutte le parti non sono solo facili da smontare e montare, così come tutte le parti rimovibili sono facili da pulire e possono essere lavate in lavastoviglie. Uno TopCaf Robot Cucina 1100 W, manuale di istruzioni, ciotola da 3,5 L, tazza del frullatore da 1,8 L. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Bosch Multitalent 3. Cucinare è facile con Multitalent 3 Bosch, il robot da cucina compatto con più di 50 funzioni, un potente motore da 800 W e una varietà di accessori per impastare, tagliare, montare in modo rapido. Le due velocità e la funzione pulse consentono preparazioni semplici e veloci, mentre la ciotola trasparente ti permette di controllare lo stato dei tuoi impasti di pizza, pane o dolci senza aprirla. Gli accessori possono essere riposti facilmente dentro la ciotola da 2,3 litri, risparmiando spazio anche nella cucina più piccola e consentendoti di tenerli sempre a portata di mano. Set di accessori lavabili in lavastoviglie inclusi, disco in acciaio inox per affettare e grattugiare, lama per impastare, lame multilevel 6 per macinare e tagliare, disco per montare panna e uova. Il vincitore del premio è il Kenwood FDP-301. MultiPro Compact è un robot da cucina che offre prestazioni, versatilità e stile. Il potente motore da 800 W permette di impostare due diverse velocità di lavorazione e pulse, assicurando di ottenere i risultati desiderati in ogni occasione. Per renderne l'utilizzo ancora più facile e pratico, sia la ciotola e che il frullatore si collegano alla stessa base, risparmiando spazio sul piano di lavoro. Per lavorare con grande rapidità e efficienza Per il controllo totale sulla preparazione e per risultati ottimi ogni volta Per preparare un'infinità di ricette per tutta la famiglia Permette di adattarsi a qualsiasi stile di cucina Capacità massima 1,2 L Per sminuzzare barra affettare grosso Per preparare la maionese e montare la panna e gli albumi Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento